È stato inaugurato ieri il percorso mostra il gioco delle 4R, riduzione, riuso, riciclo e recupero. Un percorso di riflessione divertente sulle tematiche dei rifiuti allestito al Parco dell'Acqua di Brescia e rivolto principalmente alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Ai nostri microfoni l'assessore alla scuola del Comune di Brescia, Roberta Morelli. Il riciclo e riuso perché i bambini devono imparare e imparano anche prima degli adulti l'uso consapevole, il riuso, il riciclo, l'utilizzo dei materiali che ci sono a disposizione. Questo si inserisce perfettamente in quella che è la nuova raccolta differenziata che abbiamo in corso nella città di Brescia e che sta dando notevoli risultati e questo proprio anche all'attenzione dei bambini, al loro impegno, ai percorsi che sono stati effettuati nelle scuole. Quindi questo nuovo percorso si inserisce perfettamente in questo filone e è un'occasione in più per le scuole di effettuare percorsi interessanti, progetti che arricchiscono quella che è l'offerta formativa con particolare attenzione all'ambiente, al rispetto. Parliamo di rispetto, la prima forma di rispetto, una delle prime forme di rispetto deve essere quella nei confronti dell'ambiente, oltre che naturalmente per le persone, quindi ambiente, persone, animali, cose, un rispetto che deve riguardare tutto ciò che sta nel nostro pianeta. Davvero ci sono numeri importanti, tantissime scuole già hanno visitato precedentemente le mostre, anche adesso sono stati messe a disposizione 4.000 posti e già le scuole hanno effettuato moltissime prenotazioni, quindi non c'è più quella grande disponibilità e questo però sta a testimoniare e a significare che c'è molta attesa e che questi percorsi sono molto graditi.